Bentornati su MyFootballJersey, vediamo la terza maglia del Newcastle per la stagione in corso in edizione Player, la maglia pensata per i calciatori. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Maglia molto bella, mi piace molto tra l'altro questo colore, perfetto in ogni dettaglio. Fate attenzione alla taglia, questa essendo una Player è un L, ma a me devo dire che sarà perché forse un po' ingrassato, va proprio di misura. Il costo lo vedete qui sopra, su questo non aggiungo altro, decidete voi. Se volete saperne di più potete trovare tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo diventa ancora più basso. Ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Prima però iscrivetevi al canale, spingete questo benedetto pulsante. A voi non costa nulla, ma mi permette di mostrarvi maglie come queste tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti!